Capito lo mercato, mister, si aspetta almeno un attaccante? Siamo in piena sinergia con la società, poi quello che offre il mercato restano sempre un pochino dell'incognita al di là di quello che uno può andare o meno a cercare. Sono tante le variabili che compongono eventualmente l'arrivo o no di un calciatore. Non si ha a che fare solo col calciatore stesso, si ha a che fare con una serie di problematiche. L'importante è che venga una persona tecnicamente valida, se deve venire, positiva e con l'aspetto morale molto giusto. Ancora niente, nessuna novità di mercato in uscita e soprattutto in entrata. Il centrocampista offensivo Alessandro Scialpi, obiettivo forse del Barletta, ha firmato per il Melfi in seconda divisione. Riccardo Allegretti dovrebbe, il condizionale è sempre d'obbligo, restare in bianco-rosso sino al termine di questa stagione. Il giovane attaccante Manuel Mazzotta, nei giorni scorsi in prova a Barletta, ha lasciato la città della disfida da una settimana. Il ragazzo pare non aver convinto totalmente e per il momento non verrà tesserato. Continua ad essere un obiettivo concreto invece l'attaccante classe 94 Vito Leonetti del Bari. I bianco-rossi di Neve Orlandi, reduci della vittoria casalinga contro l'Ascoli, la prima interna in questo campionato di prima divisione, hanno ripreso ieri a lavorare sul campo in vista della trasferta di Prato, dove rientrerà dopo la squalifica Marco Cane, ma mancherà Carlo Ilari, espulso domenica scorsa contro i Marchigiani e fermato per un turno dal giudice sportivo. Contro i Toscani, intanto, il Barletta proverà a fare qualcosa che non è mai riuscito a fare in questa stagione, vincere due gare di fila. I bianco-rossi d'altronde, sin qui, ne hanno vinte due in totale. Orlandi proverà l'undici antiprato nella partitela di allenamento di domani pomeriggio contro il Bari, in programma al Puttilli. A partire dalle ore 15, chissà se ci sarà spazio anche per Capitan Riccardo Allegretti. Un altro giorno di pazienza e lo scopriremo.